Buongiorno, questo video per illustrarvi una operazione di trading che ho appena eseguito sul mercato tedesco, sul future DAX per la precisione, questa mattina mercoledì 12 ottobre. L'operazione è stata eseguita nell'intraday grazie all'indicatore Confluenza, che è un indicatore di mia creazione, quindi un indicatore proprietario, ma comunque è disponibile anche eventualmente in abbonamento a chi ne facesse richiesta. Le informazioni si trovano sul mio sito internet www.strategieditrading.it. L'indicatore Confluenza è costituito da una serie di histogrammi verticali che vengono posizionati nella parte bassa di un grafico. Questi histogrammi assumono molto semplicemente tre tipi di colorazione, una colorazione verde per indicare le posizioni long, una colorazione eventualmente qui non si vede ma rosse per indicare la convenienza di aprire posizioni short, mentre invece una colorazione gialla, la terza per indicare posizioni flat o meglio non posizioni o meglio ancora la chiusura delle precedenti posizioni long o short che siano. Che cosa è successo questa mattina? È successo che l'indicatore era giallo e ad un certo punto alle ore 10 e 25 per la precisione è diventato verde. Quindi mi indica la convenienza di aprire posizioni long che vado a fare subito in apertura della candela successiva sul livello 12.241. Quindi lì apro una posizione rialzista che mantengo in essere per più di un'ora e che continuo a mantenere visto che è di 5 minuti in 5 minuti. Questo è il time frame che utilizzo con questo indicatore, l'indicatore stesso continua a rimanere sempre verde e a confermarsi rialzista fino a quando alle 11.45 l'indicatore diventa giallo. Quindi mi suggerisce di chiudere l'operazione rialzista, cosa che vado effettivamente a fare sulla candela successiva in apertura sul livello 12.283. Quindi un'operazione in tre day durata praticamente un'ora e venti dove in questo long sono riuscito a portare a casa 42 punti di DAX che corrispondono ad un ottimo guadagno che è pari a 1050 euro lordi eventualmente da capital gain e ovviamente commissioni. Quindi indicatore confluenza che mi permette di individuare, l'ho dimostrato anche questa mattina correttamente i trend che ci sono sul mercato, soprattutto sui mercati più reattivi e fortemente direzionali come proprio il DAX, ma vale anche per il FIB o anche per il NASDAQ, quelli più direzionali in generale. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Buon trading a tutti!